La mostra fotografica del maestro Paolo Barone dal tema Mangiare con gli occhi ha richiamato un gran numero di ammiratori. La mostra allestita nella sala consigliare del municipio è stata un'iniziativa degli amici del Mediterraneo. Paolo Barone autore della mostra fotografica Mangiare con gli occhi, cosa vuoi esprimere con queste tue gigantografie? No, esprimere nulla, vorrei soltanto far venire l'alcolina in bocca, nel senso che innamoratissimo della mia terra, dei suoi sapori, dei suoi prodotti, cerco con la mia professione, con il mio impegno professionale più che altro di collaborare a uno sforzo gigantesco che è già in movimento ma che va sicuramente ampliato e amplificato, quello di diffondere nel mondo la fragranza di un'isola che è sicuramente straordinaria. I nostri sapori anche su prodotti che non sono esclusivi della nostra terra hanno un valore aggiunto che va raccontato, va raccontato con la degustazione, va raccontato anche attraverso gli occhi, gli occhi per mangiare e quindi attraverso stimoli che completano un modo di presentarci nuovo, basta con veli e scialli scuri. La Sicilia è una terra di colore, di sapori, di fragranze, di aromi, facciamolo esplodere nella comunicazione nel pianeta.